Buona giornata, ben trovati, l'appuntamento è con www.venetoglobe.com per parlare di sport, il nostro spazio quotidiano, l'appuntamento appunto vi dicevo su www.venetoglobe.com, c'è anche l'audio che potete ascoltare attraverso il VG Radio e naturalmente attraverso i vostri telefonini se scaricherete l'app di www.venetoglobe.com, per chi ama invece il digitale terrestre, il modo ancora di vedere in normalità e in tranquillità la televisione, vi ricordo Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia potete vedere sul canale 95. E andiamo alle principali notizie di oggi, stasera finale di Coppa Italia a Roma tra Napoli e Juventus, è il primo trofeo che viene assegnato dopo il Covid, due squadre che partono alla pari si dice, Napoli e Juve, Mertens può creare problemi alla difesa bianconera insieme a Caglion e ad Insigne che sono stati creati proprio in quella posizione dallo stesso Sarri, attuale allenatore della Juventus, in caso di parità si andrà subito ai calci di rigore. Il mercato parla rosso-nero con il Milan che ora vede più possibile insomma il rinnovo con Donnarumma, molto più possibile, da chiudere anche con Romagnoli e con Chier per quanto riguarda la difesa. La Roma invece punta su Pedro, attaccante svincolato dal Chelsea. Andiamo in Bundesliga dove il Bayern di Monaco conquista il suo ottavo titolo consecutivo. È Lewandowski a decidere a Brema contro il Werder la partita e a firmare il suo 46esimo gol stagionale. Passiamo alla Spagna dove il Barça vince 2-0 contro il Leganesh e Messi fa il suo gol numero 699. Pensate, quasi 700 gol in questa meravigliosa carriera. Domani il Real, sempre per rimanere nella Liga Spagnola, il Real giocherà contro il Valencia. Riparte la Premier League, eccola qua. I Reds potrebbero laurearsi campioni già domenica nel derby contro l'Everton di Carletto Ancelotti. Oggi tra l'altro ci sono due recuperi tra cui spicca quello tra il City e l'Arsenal. Andiamo in Serie B, ritorniamo in Italia. Si riparte il 20 con il campionato, ma oggi c'è l'anticipo con Ascoli-Cremonese pronti a scendere in campo prima della ripartenza del campionato. Tra l'altro un giocatore del Venezia, tale Felicioli, è stato fermato per positività al coronavirus e ha messo in pericolo anche alcuni giocatori del Padova che sabato sera a Jesolo avevano trascorso insieme la serata. Ora rischia anche la gara di Trieste tra Pordenone e Venezia. Venerdì anticipo tra Spezia ed Empoli, mentre domenica si giocheranno due gare. Intanto sono diverse anche le squadre che presenteranno ricorso in questa Serie B. Cosenza e Trapani in primis, in Serie C invece sono tre le società che hanno agito contro la Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIDC, e sono Gozzano, Fano ed Olbia. Ripartenza fissata nel MotoGP a Misano Adriatico. È già tempo di mondiale finalmente, dal 23 al 25 test per 5 team in pista. Un mese esatto alla ripartenza da Eres della Frontera. US Open di tennis, il governatore dello Stato di New York, Cuomo, dà il via libera per giocare, ma senza il pubblico. Un pubblico che vedete in questo caso affollare l'US Open, non sarà così chiaramente. confermata la data originaria, cioè dal 31 agosto al 13 settembre, mentre lo slam sarà preceduto il 16 da Sensinnati, sempre da giocarsi comunque a Flash and Meadows. Passiamo alla cronaca regionale, provinciale e locale. Finalmente alla Ghirada, vi dicevo, nei scorsi giorni per il Benetton era arrivata la possibilità di allenamenti con il pallone e di provare ancora parzialmente degli scontri fisici. Preventivamente disinfettato il pallone ovale, tutto comunque ancora in attesa del board Pro 14 che deciderà come chiudere questa stagione infinita. La possibilità sarebbe per quanto riguarda il Benetton di avere due gare, due gare da giocare contro Parma. C'era una querelle che tra l'altro ha fatto arrabbiare parecchio i vertici italiani perché volevano giocare sì queste due partite ma che non contassero i punti per quanto riguarda la Pro 14. Chiaramente non sono d'accordo quelli del Benetton. Vedremo comunque come andrà a finire e quantomeno se riprenderà questo campionato. Sentiamo adesso invece il responsabile del settore giovanile che ieri abbiamo già ascoltato in una prima parte. Oggi la seconda parte perché finalmente si è dato il via allo spazio anche ai giovani e naturalmente alle femminile, quello delle Red Panthers. I ragazzi stanno reagendo, secondo me stanno reagendo molto bene in quanto abbiamo avuto parecchie richieste dei genitori quando riaprite. Purtroppo la Ghirada è un centro sportivo particolare nel senso che è un centro privato a uso pubblico. Il fatto di riaprire vuol dire anche dar la possibilità a qualsiasi persona di poter venire a giocare a basket, a volley o utilizzare la Ghirada per qualsiasi attività. Quindi la risposta dei nostri ragazzi è stata molto positiva perché abbiamo avuto circa il 93-94% di ritorno di ragazzi che sono venuti a riprendere e a fare l'attività. Quindi dal nostro punto di vista siamo molto felici, saranno ragazzi che spero ci ritroveremo poi a settembre quando riprenderemo ufficialmente tutta l'attività sportiva per la nuova stagione 2020-2021. I ragazzi li ho visti felici e voglio di riprendere. Proprio la mancanza, sai, del contatto fisico, della presenza sia a scuola che nel centro sportivo, nei campi da rugby, è mancata molto, la parte affettiva, le ragazze, è mancata molto e di conseguenza il fatto di ritrovarsi era la cosa che un po' più mi preoccupava, soprattutto i più piccoli che sono abituati ogni volta che si vedono, di abbracciarsi, di spingersi. Però ho visto che anche i più piccoli sono stati molto responsabili, hanno capito in questi due mesi, due mesi e mezzo di chiusura che bisogna rispettare determinate regole e questo mi fa molto piacere. Allora, durante la quarantena, come abbiamo seguito i ragazzi? Allora, tutte le categorie, dall'under 10 fino all'under 18, più la femminile, qui più piccole è stato un po' difficile perché sai, devi collegarti con i genitori, diventa complicato, però tutti i ragazzi sono stati fatti dei collegamenti online, dove gli allenatori, che voglio anche ringraziare perché durante questi due mesi, due mesi e mezzo di inattività, sono stati molto bravi a collegarsi con tutte e quante le famiglie, a tenere sempre presente che siamo presenti con tutte e quante le famiglie e abbiamo fatto sempre dai due, i più piccoli, ai tre, quattro allenamenti con quelli più grandi online ogni settimana. Quindi la risposta è stata molto, molto positiva, ma sicuramente non è la stessa cosa che andare sui campi e fare l'attività e si vede, con la ripresa anche di giocatori a prima squadra, la difficoltà di riprendere. La stessa cosa vale per il calcio, tutta questa cosa qua. Insomma, quindi siamo molto felici del lavoro fatto dai nostri allenatori durante questo periodo qua di lockdown e li ringrazio ancora per il collegamento online che hanno fatto per far sentire che eravamo presenti come società perché non volevamo sicuramente perdere i ragazzi e volevamo far vedere che sono il nostro patrimonio. Quindi sono stato molto contento e la cosa mi fa molto piacere. Questo per quanto riguardava il settore giovanile del Benetton con questa intervista, la seconda e ultima parte dell'intervista a Giovanni Grespan. Intanto sono ben otto i giocatori che chiuderanno con il Benetton. Sono Zanni che tra l'altro avrà la possibilità di rimanere nell'ambiente trevigiano per imparare a diventare un preparatore atletico, insomma un preparatore fisico con la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente importante come quello delle Benetton. Poi Dan Budd, eccolo qui, insieme a Ian McKinley. Sono tra l'altro oltre che due giocatori trevigiani anche come vedete dalle maglie due azzurri che in questi anni hanno giocato proprio in maglia azzurra. Bene, torneranno nei loro paesi d'origine Budd in Nuova Zelanda e mentre Ian McKinley, che ricordiamo, Ian McKinley è irlandese, ritornerà appunto in Irlanda. Lui è diventato famoso, non volendo chiaramente, perché ha perso l'occhio. Tutti gli dicevano che non avrebbe più potuto giocare, invece con uno speciale paio di occhiali è riuscito a giocare, è riuscito a rimanere ancora a grandi livelli. Lasciano il Benetton anche Tito Tebaldi, altro azzurro, che passa al Petrarca Padova. E poi se ne va anche Marco Fuser, che va al Newcastle. Lascia anche Nasi Manu, eccolo qui, guarito tra l'altro, lo sapete la storia, da un tumore ai testicolo e supportato alla grande dai compagni e dalla città in quel maledetto periodo. Se ne va anche Rizzi, che va al Parma, e Machelara, che prenderà la via di club minori. Nuovo arrivo, come avevamo anticipato ieri, proprio in chiusura di TG, a Limoco Volley Conegliano, quindi parliamo di pallavolo femminile. Ha casato la 17enne schiacciatrice italiana, nata da genitori nigeriani, Lovet Omorui, promessa a livello nazionale. Lei ha fatto parte e fa parte di tutte le rappresentative giovanili della nazione italiana. Questo è un nuovo e forte rinforzo per Limoco. Ora mancano soltanto le riconferme di The Cruyff, eccola qua, e dell'americana Kimberly Hill. Nel basket trevigiano della TVB De Longhi, oggi si festeggia il giorno del trionfo della passata stagione, la promozione in Serie A, e si impose, vi ricordiamo, per chi magari è di memoria corta, si impose il TVB in gara 3 a Capodorlando, vincendo per 76-76 a 65-65, e poi fu festa grande tutta la notte. Calciomercato, adesso ritorniamo su alcune precisazioni per quanto riguarda le bombe, chiamiamole così, sparate dal nostro Flavio Cipriani, negli appuntamenti del lunedì e del venerdì. Tra l'altro voci e naturalmente indiscrezioni poi confermate da tutti, quindi non è che diciamo sciocchezze. Da Porto Mansuet arrivano le conferme ufficiali della società, c'è la conferma del nuovo tecnico, che è Marco Marchetti, eccolo qui, lo scorso anno al Montello, uno dei tecnici secondo me più bravi della categoria, in grado di qualificare appunto una squadra, lo aveva cominciato a fare anche a Volpago del Montello. Con lui se ne va da Volpago, già se ne era andato, Carlo Casagrande, il direttore sportivo, che andrà ad occupare la carica di direttore sportivo proprio al Porto Mansuet. Si è sistemata anche la panchina del Lia Piave, che Tossani in settimana aveva lasciato libera perché la sua richiesta era quella di allenare nel pomeriggio. In la linea della società invece, quella del Lia Piave, della società di San Polo di Piave, rimane ancora con allenamenti in fascia serale e intende affidarsi per la prossima stagione ad un nuovo tecnico che si chiama Paolo Zoppas, da alcuni anni a Vittorio Veneto, stava facendo molto bene e adesso passa al Lia Piave, che quindi si rinforzerà adeguatamente con alcuni giocatori che magari faranno parte dell'entourage di Paolo Zoppas. Quindi si libera la soluzione Vittorio Veneto, si parla e si mormora che il nuovo tecnico a Vittorio potrebbe essere Stefano Andretta, magari coadiuvato da Bruno Gava con una figura non di allenatore ma di direttore tecnico generale, insomma, e quindi di questo staremo a vedere. L'Union QDP richiama in panca Paolo Fedato, dopo la retrocessione dall'eccellenza alla promozione, si ripartirà da una rosa giovane per appunto la promozione. Di Pieve e di Soligo vi ho già citato alcune cose ieri, cioè la conferma dei pezzi pregiati da parte del DS De Martín e Titonelle, cioè dell'Andrea che rimane, della Colletta che è ritornato, Scarabelle che deciderà proprio in settimana ma sembra aver detto sì di nuovamente all'eclisse e il nuovo arrivo è quello di Filippo Mognon, difensore centrale. Se ne vanno per motivi di trasferte piuttosto lunghe Allegretti e Brustolone. Con queste notizie abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani alla solita ora. Buona giornata.